Tranquilli, tranquilli, sono sempre io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista, troppo giusto! Dove dà? Un panotto bello fresco, pronto per l'esame di ammissione al nostro giro. Porta dentro il tamarino, ino, 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 che gli faccio un bel ceccato. Eccolo capo, è un missile! Uè, testa di casuas! Ma tu di lavoro cosa fai? Il manichini in una boutique. Facciamo subito la prova orale. Sereno. Sì, però forse poi si guasta, perché... Bruzzo d'un tamaro meteorologico! Sereno, e saluto! Sereno. Va bene. E adesso facci vedere la tua grinta, stermination, e facci sentire la frase più tremenda, la più cattiva che conosci. Un insulto verischiopetation. Un pezzo d'asino! Un pezzo d'asino! Un pezzo d'asino! Un pezzo d'asino! Troppo scarso! Vediamo se ti rifai con la prova sfittenzia. Avere quella... del cuore. Un pezzo d'asino!